Ciao amici e benvenuti a Entry Channel, la primavera è arrivata con un bagaglio carico di frutta e verdura di stagione. In questa ricetta utilizziamo patate e porri per preparare una gustosissima vellutata. Vediamo come realizzarla. Per preparare la vellutata di patate e porri ci serviranno. Per prima cosa tagliamo finemente i porri. Facciamoli rosolare in una pentola con dell'olio. Quando saranno appassiti aggiungiamo le patate e copriamo a filo con dell'acqua calda. Immergiamo al suo interno il rosmarino. Quando le patate cominceranno a sfaldarsi spegniamo il fuoco. Togliamo il rosmarino e con un frullatore ad immersione riduciamo in purè le nostre verdure. Prepariamo la panna di soia frullando 100 ml di olio di semi e 50 ml di latte di soia. sciogliamo al suo interno un cucchiaino di curcuma. Amalgamiamo la panna alla nostra vellutata. Grattugiamo la buccia di un limone e aggiungiamo sale e pepe a piacimento. provatela e fateci sapere con un commento. E se il video ti è piaciuto clicca mi piace e condividi. Ciao!